benvenuti a tutti cari carbonauti oggi siamo pronti per un altro viaggio nel mondo del gusto siamo nel cuore della vecchia roma e quindi nel regno della carbonara e io sono mister food stiamo entrando in un mondo di carbonara la nostra amata carbonara buongiorno caro danilo ciao antonello piacere piacere fabrizio piacere mister food andrea ci troviamo con chiara ed eccoci qua con johnny con andrea del ristorante giuda ballerino buttiamo la pasta questa qui una ricetta segreta cominciamo a scaldare il guanciale pesce spada a cubetti e vado a condire con l'uovo io metto due fiocchetti di gorgonzola parmigiano pecorino uno squaglio di pecorino di fossa la pasta è pronta ecco che sta prendendo la forma la nostra carbonara di pesce spada con un mestolo è talmente bello che quasi dispiace mangiarsi è una cucina senza compromesso un piatto veramente buono per palati forti un piatto unico con questo si sta a posto ricordatevi la carbonara non si discute si ama